Il settore dell'occhialeria belunese di rientro da Mido è ancora in grande fermento per tutto quello che l'importante appuntamento fieristico ha rappresentato per il business delle proprie aziende. Occasione di incontro, scambio, creazione di nuovi contatti, il prestigioso salone dedicato all'occhialeria è da sempre un appuntamento immancabile. E anche questa 49esima edizione appena conclusa si ha confermato il risultato dello scorso anno con una leggera crescita che ha portato a circa 59.500 le presenze nei tre giorni di manifestazione di operatori professionali provenienti da 159 paesi. Una vetrina molto importante che si conferma in assoluto la più importante per il mondo dell'occhialeria e quindi di conseguenza anche per il distretto dell'occhiale e per la provincia di Belluno. In occasione di Mido sono stati presentati anche i risultati di alcune ricerche inerenti al mercato, consumo, tendenze e design degli occhiali. Fra queste la terza edizione di Mido Outlook che ha fatto il punto sulla situazione del mercato globale dell'ottica e sulle aspettative nel futuro. Secondo quanto rilevato dalla società GRS Ricerca e Strategia che ha realizzato l'indagine intervistando 1320 aziende di 98 paesi, la situazione di mercato attuale viene considerato stabile. Il 53% degli operatori coinvolti ha fiducia nel futuro, soprattutto in America e Oceania. Per quanto riguarda invece le criticità, tutti gli intervistati vedono gli aspetti fiscali, burocratici, regolatori, i prezzi di vendita e il costo del lavoro come le maggiori sfide a cui far fronte. Fra i molti aspetti l'indagine evidenzia inoltre come, entrando nello specifico del mercato, gli ottici sono ancora il canale preferito per venire a contatto con i clienti, ma è l'e-commerce l'area su cui si concentreranno maggiormente gli investimenti futuri. Il 76% delle aziende considera infine che per stare al passo con i tempi le fiere rimangono il luogo in cui raccogliere maggiori stimoli per il proprio business, a cui seguono i siti internet al 66% e i social network al 55%. Per quanto riguarda il nostro sinistrato al 56% e i social network al 55%. E' così successo.